Siamo con Patrick Churria nel ritiro di Moena Patrick, il tuo secondo ritiro in prima squadra, quali le tue impressioni? Sì, sono molto contento di essere venuto in ritiro con lo Spezia per la seconda volta Sensazioni bellissime, è un gruppo affiatato che ci aveva di lavorare La maggior parte dei compagni li conoscevo già perché c'erano anche l'anno scorso Ma anche i nuovi arrivati si stanno integrando bene nel gruppo Ecco, proprio un gruppo che si sta creando un bel mix tra giovani e anziani Sì, i giovani li conoscevo già perché ero in primavera con loro Anche con gli anziani a volte ci prendono per le orecchie, ci danno dei consigli Però sempre in maniera giusta e corretta per farci crescere Ecco, l'anno scorso è stato importante per te l'esordio in Serie B e in Team Cup E poi l'approdo in nazionale con l'Under-19 Sì, l'anno scorso è stato fondamentale per me Lo vorrei rifare altre mille volte Però quest'anno ho da lavorare a testa bassa, migliorare Perché per confermarsi bisogna sempre confermarsi La conferma è sempre più difficile e poi la Serie B già l'anno scorso ti ha dimostrato che è un campionato molto difficile Sì, è molto difficile, devi avere velocità di pensiero, devi essere aggressivo Appena perdi la palla devi rincorrere l'avversario per aiutare i compagni A disposizione dei compagni, a sacrificarsi Mister Bielisa crede molto nei giovani E soprattutto nel gioco sulle fasce Cosa vi chiede in particolare a voi esterni? Sì, Mister Bielisa crede molto sui giovani e questo è il nostro punto di vantaggio Chiede niente, chiede cose semplici Quando c'è bella palla di allargarci per fare girare bene la palla E invece quando c'è la palla agli avversari di stare belli compatti Per non farci infiltrare le palle in mezzo Ecco, ci sono stati i mondiali che hanno messo in mostra i migliori calciatori internazionali A chi si ispira Patrick Shurria? Il mio idolo è Cristiano Ronaldo Però mi ispiro di più a Aaron Robben perché è mancino come me E vorrei in un futuro essere come lui, diventare come lui In bocca al lupo